Questa occasione di incontro è stata molto importante perché ha messo insieme un pezzo delle istituzioni, un pezzo della politica, un pezzo delle imprese. La sfida dell'innovazione è una sfida obbligata perché se non si innova non è che si resta come si è, si va indietro e molto indietro e come ho detto nel mio intervento molto rapidamente. Non si retrocede dalla serie A alla serie B ma probabilmente alla serie C o addirittura alla promozione. Il compito della politica è quello di fare delle leggi chiare e delle norme chiare e noi nel Parlamento stiamo cercando di farle a partire dalla riforma costituzionale che ha un po' rivisto il quadro delle competenze perché abbiamo l'obbligo di dare alle imprese le regole entro le quali hanno poi l'obbligo di svolgere il loro ruolo che è quello di dare alla innovazione una concretezza di iniziativa produttiva. Se ognuno fa il suo mestiere la Puglia collabora, se ognuno pretende di fare qualche volta il mestiere degli altri la Puglia secondo me non manterrà le promesse che ha perché l'assunzione di tutti quanti quelli che sono intervenuti in questo convegno è che la Puglia ha delle enormi potenzialità, tutti noi ognuno per la sua parte abbiamo l'obbligo di fare il possibile perché queste potenzialità si esprimano al meglio. Grazie a tutti.